Ovvero l'approccio alla caduta, perché è molto meglio saper cadere bene che irrigidirsi per non cadere. Sembra un controsenso, ma la stragrande maggioranza delle persone che cadono è perché evitano in tutti i modi di cadere. Sembra un controsenso, in realtà è così. Vale a dire che chi ha paura di cadere mentalizza la caduta, si irrigidisce e va per terra. Non devo cadere, non devo cadere, non devo cadere, sono esattamente concentrato sulla caduta. Allora, via, se volete lavorare ciclismo, via gli atteggiamenti ipocondriaci. No, ste robe qua, te le effetti perché te sei bravo, ma no, te sei esagerato. Non si può praticare noi, però si può imparare facendo cosa? Ad esempio nella Bike Academy o i ragazzi di DMX fanno acrobatica all'inverno. I ragazzi della Bike Academy li facciamo fare hip hop, parkour, tutte le discipline che implicano un approccio alla caduta. Con i ragazzi della Mainetti li abbiamo fatto fare Judo, che proprio quello che facevano loro come Judo era molto simile a quello che viene insegnato nella disciplina, proprio un approccio alla caduta. Non è che bisogna cadere apposta, ma bisogna tenere conto che la caduta fa parte del gioco. Attenzione, non vuol dire mi devo buttare apposta per terra, è meglio sicuramente non cadere, ma dobbiamo tenere presente che la caduta non è quel mostro che tutti immaginiamo, perché se noi abbiamo padronanza della caduta cadiamo meno. Ok? Sono così. Se io tiro il freno posteriore e faccio questo, mi butto dal lato più basso e faccio questo. Ok? Questo è molto semplice. Se io faccio questo, vado avanti così. Ok? La stessa cosa la posso fare quando sono in velocità e cerco di scappare via correndo. La stessa cosa che avete visto adesso. Se mi capita di cadere, devo cercare di non impattare subito, di non fermarmi, ma o corro e se scivolo rotolo con la tecnica anche che si insegna nel jiu jitsu, ad esempio, che è quella di rotolare sotto, che è più figa. Andrilo, rifammelo lei. Devi andare così, invece che fare questo, che andate a spaccarvi, voi dovete ruotare sotto. Arriviamo in caduta, abbiamo la bici, corriamo, se stiamo incamberando, facciamo questo. Come la capogliola, quasi come la capogliola. Dobbiamo ruotare sempre. Grazie.